vai vai sì sì finalmente ho sbloccato sto livello finalmente oh si è aperta la porta eh si è aperta mamma mia oh benvenuti in kiwi bella a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi buon lunedì di ferragosto o dostate armare sua spiaggia montagna benvenuti e ben bom 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 ferragosto ragazzi qua si continua a uscire video si continua insomma si continua con genshin impact ragazzi col gameplay di genshin impact ricorda ricordavate ricordavate ricordate quella l'ultimo video dove mi ero bloccato lì ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta come avete visto dalla intro poco fa problema che quel pezzo proprio di vittoria proprio non non ha registrato il telefono e vabbè e quindi quindi questo ragazzi che che mo fa purtroppo la sfiga o me l'attacca sempre qua e che camma fa però ragazzi ora andiamo avanti di vedere cosa succede dopo quella cosa la che non sa non se passava insomma ma ragazzi iniziamo subito con questo gameplay ma non prima che vi siete iscritti al canale attivate la campanellina mettere like commentate fa tutte le cose che dovete fare sempre mi raccomando io ve lo dico tutte le volte va vabbè funzionerà non lo so voi voi iscrivetevi al canale tanto a voi non vi costa nulla è gratis che cazzo te costa zi clicca quel bottone rosso qua sotto iscriviti e a me metti like e commenta se anche tu giochi a genshin impact se hai dei suggerimenti dei suggerimenti da darmi su cosa su come fare sui vari personaggi da utilizzare raga commentate sto cazzo dei video mi raccomando ragazzi iniziamo subito con questo gameplay allora qua la porta si è aperta vediamo che c'è stanner baule vediamo vediamo che c'è stanner baule allora oh e apri che cazzo vediamo vediamo che c'è stanno un cazzo di niente ecco come al solito abbiamo la coscia di pollo tanto non serve a niente sto cibo che trovo non serve a niente vabbè seguiamo il seguiamo il coso giallo diciamo a puntina gialla allora mo dove devo andare ecco qua ci stanno gli altri tipi gli altri pokemon che tocca a posto oh ma oh e che cazzo non serve a niente non serve a niente non serve a che c'ho fatto allora allora niente ragazzi e va va dai si vabbè buona no oh mamma questa è una ciocchetta ragazzi sta sta sto stoppeggina è una caccata proprio mamma non mi sono salvato pelo pelo ragazzi sto 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 lì per schiatta sto apriamo il baule magari c'è qualcosa di importante ma chi ma chi non ci sta un cazzo di niente non ci sta allora vediamo vediamo rompiamo le altre casse rompiamo vediamo magari ci sta qualcosa di più interessante no non ne voglio rompere andiamo avanti che cazzo me ne frega a me qua ci sta il turbine per poter volare siamo di riuscire a volare io la farò a volare raga o morirò schifosamente morirò schifosamente ovviamente è ovviamente quelle sono tutti morti ma perché solo le metà disponibile perché questo gameplay lo vedo abbastanza complicato di complicato io che sono ignorante forse vabbè andiamo avanti teoricamente dovrebbero essere già tutti morti che cazzo ho fatto allora teoricamente dovrebbero essere già tutti stati sconfitti sti così qua quella è rimasta aperta a meno male a meno quella è rimasta aperta a meno male poi vediamo i pokemon dei prima non ci stanno ok vedi quindi a meno sta cosa la salve in automatico va meno male quindi mo devo provare a volare perché solo dalla si può uscire diciamo allora ecco con le ali con le ali si vuole con le ali con le ali con le ali ciao ciao questa sta lì lì per schiattar sta che cazzo risuscitiamo gli altri risuscitiamo a poi ci facciamo pure il tempo ci vuole per risuscitare buonanotte dai se conferma conferma voglio aspettare questa salire questa vabbè raga comunque nel frattempo che risuscita che faccio risuscitare gli altri pg ragazzi commentate sto video e dite voi con cosa giocate a voi a genshin impact a che livello state se sta parte qua già l'avete superata non ci interessa se anche voi sta parte qua l'avete superata e insomma scrivete a che punto state con genshin impact e soprattutto cosa importante se avete degli stratagemmi particolari delle cose particolari e soprattutto se anche voi la cazzo di lingue sempre in inglese maron c'è ci stanno tutte le lingue del mondo da me almeno scritte non dico parlate non dico parlate però almeno scritte c'è sta portoghese cinese spagnolo francese tedesco non c'è sta italiano e che cazzo che palvativo quando alle alle scelte io vado bubato così è d'intuito vado se cerco un po di capire ma tra bisogna pur capire il contesto di cosa dicono quindi ovviamente vado un po di intuito vabbè cliccò qua un po a casaccio diciamo un po a casaccio e voi ci andate anche voi a casaccio ragazzi scrivetelo qua sotto nei commenti grazie Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 vedi il baulamo, il baulamo ho trovato le gemme i cosi che non servono a niente diciamo voi ragazzi scrivete nei commenti se queste cose che trovo possano servire a qualcosa io non lo so ragazzi sinceramente che cosa me ne faccio di un pezzo di carne? manco salgo di saluto oh che cazzo sta a fare? sto a fare a casa sta a fare allora vediamo questa, ma vediamo che qua saltina la sua, lo scommette me ne ho man, me ne ho man vabbè ragazzi andiamo avanti, qua me ne sono perso troppo in chiacchiere me ne sono perso, allora, oh ecco gli altri po' che mi vanno a distruggere vai la boccia d'acqua, che non si capisce cos'è? oh dai, ma è muo e sta cazzo di boccia d'acqua sono morto schifosamente allora, namo kakakusa c'era caso un colpo a presa e morta, ma che cazzo? dai, ma te pare momento, mo madonna mia le perdete, dai si, va bene la notte, si, questo è morto vai dai, non mi, non mi, non mi deludere che, che, che isha, che è un cazzo di chi, che è un cazzo di chi ammi tu vai, 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 uccidi tutti freeze, vai, vai no, sono morto schifosamente ma te credo, me danno me danno il pigico col minimo de salute eh, vedi qua, già mo un po' meglio sta tutta un po' sul verde stanno ma prima un do cazzo annavo che cosa, al minimo de salute eh, dai qua ci stanno i pokemon dai, io qua mo facciamo un'entrata, un'entrata stirosa quella proprio col salto proprio, ah ah all'iron man io la farò voglio fare l'entrata all'iron man come cazzo la posso fare? devo andare un po' indietro, devo andare allora allora l'entrata all'iron man comunque il salto e vai con le ali fuori tan 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 vai freeze, vai vai ammata, ammata, ammata tutti va a muo a questi pokemon io chiamo pokemon freeze tutti distrutti tutti, tutti vai vai, vai così, così freeze così shh poparai, non me vai vai ma questo fa il teletrasporto è figo che fa il teletrasporto beh, è morto vai, la senti uso questo fuori sul mio che è il più forte di tutto con l'onda con le sue onde energetiche vai 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 con l'energetica ma mazzolupi ma mazzolupi ma mazzolupi il mio personaggio è il migliore zio mi chiede vai vai questo pure questo vai vai oh l'onda energetica e tutti i morti ole così si fa a posto ah no andiamo avanti andiamo a vedere ma questo fa proprio il allora qua devo saldare devo andare sopra ai cubi volanti il cubo volante vabbè vediamo di non cadere giù vediamo di non cadere giù vediamo di non cadere giù allora vediamo di non cadere giù come l'avessi detto sì e dai però che palle ma da dove me ripia tutta pura tutti i rossi sono pure pure ci stanno i pik i pokemon no no non ci stanno i pokemon usciamo vogliamo vai volare allora qua vediamo di non cadere se no se cadiamo mo fatti cazza mo fatti eh allora vai 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 allora allora pensa bene quello che devi fare allora vai andiamo da qua ci andiamo con le ali con le ali con le ali con le ali ciao ciao allora devo andare preciso preciso devo andare questo è deficiente dai oh fermo non te muovesi non te muovesi andiamo al centro non te muove ah non te muove poi vai qua oh non te muove non te piano start che succede con lo start ah i cubi si mettono fermi che se no mi cagano il cazzo a posto andiamo avanti andiamo avanti qua devo volare mi raccomando volea vola aspettiamo che le altre si mettono dritte dai 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 no che palle non ce la farò mai si che palle insomma fa 20.000 volte sta cosa allora andiamo avanti continuiamo allora qua ah vedi qua ha saltato quel pezzo di tutto che hai da fare vedi questo è quello di prima vedi si questo è quello di prima meno male meno male allora meno male ha saltato il pezzo ha saltato ha saltato aspettate non ho capito cazzo sto me so perso raga allora me so perso no raga mi sa che mi ha fatto andare avanti meno mi ha fatto andare avanti mi senza che so salito davvero mi ha fatto andare avanti come se fossi salito che culo allora qua andiamo fammi il giro da dietro che succede che ci sta qua sono tutte al minimo qua un colpo e moriamo tutti qua si sta non mi sta nascendo qui sta la pietra che fanno c'è la pietra la rompiamo e sbacchiamo la pietra che succede esce il il forziere a cosa è servito oddio che parla non c'era non c'era non c'era non c'era non c'era non c'era ha consumato dal principio ma è finito è finito che succede da qua che succede tutto vuoto oh no si si è bloccato il telefono si è bloccato oh e dagli ma sta caricando oh madonna mi sa che devo alleggergli un po' il telefono da un po' di merda che c'è sta sopra vabbè andiamo avanti vediamo dove mi sbuca questo gameplay sta durando un po' troppo sta durando vediamo dove mi sbuca finirà la missione sarà finita spero di sì raga oh tutto nero sì che cazzo è vabbè ah mi sa che c'è stava la nebbia su quel villaggio mi sa che c'è stava la nebbia nera e quindi non si vedeva niente può essere personaggio sbloccato lisa mmm il nome lisa non mi è nuovo allora vediamo siamo siamo sbocati è finito il livello è finito è finito il livello oh perfetto e vabbè ragazzi e vabbè quindi avete visto che probabilmente la missione era che si era fatta tutta la nebbia nel villaggio l'oscurità era avvenuta non lo so ragazzi non lo so se voi lo sapete commentate qua sotto nei commenti perché io non ci ho capito quasi il cazzo vabbè ragazzi noi invece ci vediamo a un prossimo video di Genshin Impact e mi raccomando se voi ci giocate a Genshin Impact scrivetelo qua sotto nei commenti e se avete delle curiosità dei consigli dei trucchetti magari se esistono dei trucchetti delle cose scrivetelo ad esempio qua sotto nei commenti fatemelo sapere ragazzi così magari i prossimi video prossime cose faccio qualcosa di particolare oltre che alla classica missione voi consigliatemi cosa ci sta vabbè ragazzi noi invece ci vediamo a un prossimo video venerdì prossimo e buon feragosto a tutti ragazzi ci vediamo a un prossimo video shakari shakari